Ma abbiamo già perso ragazzi Guardate lì Poi abbiamo 5 Ignite Ma se gioca Ignite ragazzi Perché erano tutti gli Ignite i miei alleati Ci sarà un motivo per cui abbiamo tutti Ignite Boh Cosa fa sto campione È il momento giusto per impararlo Direi No appena chiuso vabbè Vabbè al massimo quitto ragazzi C'è il problema Alta F4 passa la paura Che lo è sta gente Sti pagliacci qua Fammi idea o PGG Vediamo un po' Vabbè tutti i bronze e silver Beh certo Chi cazzo gioca la Van For All All'ova Non troppo diverso i miei Ranked Quindi perfetto Vabbè A livello 3 siamo Ovviamente non abbiamo un jungler Noi non sa per quale motivo I go mid Ok Come funziona Ok Oh Cosa fa la mia W Ah l'invisibilità Ottimo Ah ma ho sciolto i soldi Ah Forse potrò giocare in un altro modo Lo ammetto Tu steurt grower Bah Che modalità di merda ragazzi Come funziona Fammi un po' vedere Sparagout attacchi alla volta Quanto pare 18 gold dai minion Me da 5 gold E via E si spara Oh Tic 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 Contro uno che vogliono fare Nulla E An ally has been slain An ally has been slain Double kill An ally has been slain Niente Questo più o meno è il livello Della gente che gioca A ste modalità Vado mid Quello ping E dice Vado mid E dico Vabbè Anch'io Si maxa lei Vero O la Q Un foro L'ha disabilitato Le ranked Quindi La Q Ok Vabbè Noi stiamo tirando giù tutto qua Quindi va benissimo Non so cosa stanno facendo loro Io sparo E niente Questo è il gameplay Ragazzi Vabbè Dai magari In late game Con la passione Inizieremo a risuscitarci Tutti E E boh E cambierà qualcosa Cazzo ne so ragazzi Pi pi E piu piu E piu piu Perché quello non attacca la torre E niente Ok Ragazzi Sono onesto Non so esattamente Cosa Cosa sto facendo Non ho fatto in tempo A leggere tutto E niente Noi andiamo avanti Dov'è il problema Ecco qua E questo è il game Mi piace Mi piace ragazzi Divertente One for all Vero Però attacca No Mi sembra Vabbè E niente Titolo per arma Io non penso Che stoppattume Finirà soffrire Che lol Ragazzi Non voglio sporcare Il mio canale Con questa roba Non voglio sporcare Il mio canale Con stoppattume Poi magari In late Mi farà cambiare idea Non so Il fatto che ci risusciteremo tutti O per adesso Modo Becchio E Easy Ma devo tenerla premuta La E Vabbè Nice try Anyways 180 Ah sono anche i cooldown diminuiti Sì Sono un spell Vabbè Sti cazzi Allora Forse il tp era meglio Con i cooldown diminuiti Va Vabbè Andiamo avanti Ma lei Devo tenerla premuta No Si forse Il kraken è meglio Fa solo quella strana lì Penso ne facesse di più Le ha tre cast Ok Whitsend Mi sa di sì Boh Si comunque va Fatta la kraken Ci avranno tutti No Fa solo sto viaggetto qua Vabbè Va bene Va bene Va bene Ragazzi Smacks a lei Io ho seguito la chat E hanno detto 90% Si si è ovvio Che andrò di Whitsend Ragazzi Ecco qua Ah noi tiriamo dritto In mid Poco male Più 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 Rattattattattattattà E niente Bastano prendere due volte Il tasto destro Ok Easy Ovviamente Mercury Manco a dirlo La tua team ha distruttato un torrent Un enemy ha stato slavato Atulti può essere bloccata da minio No Bloccata a minio e torri Davvero Ma Perché non ho rianimato Chiedetelo a me Ah è vero Non devo premere Ok Devo abituarmi a sta cosa qua Ma sono tutti i mid Han capito che bisogna difendere i mid Eh Pusheranno i miei fratelli Ecco qua I miei fratelli Medio orientali Loro hanno il jungler Quindi Ok Easy Acqua Acqua tonnata Tutti i mid sono Ok Vabbè Noi ovviamente i fight ragazzi Li straperdiamo Però Cioè Qua si pusha No no Tirate dritto Sti cazzi della mid Tirate dritto Tanto Quanto volete Possiamo pushare Degli amumu Basta uno che va lì Easy Eh Ok Andiamo a pushare botte Stattato con Lord Dominic Avrei qualcosa da ridire Tic 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 Cioè lo sento proprio quanto può effettivamente essere forte sto cosa E via Arrivederci Oddio Ecco qua Easy Stavo per fersciarli addosso perché dico se questo qua gli torna la Q mi ammazza Quindi ho detto flash gli autoattacco Poi ho usato la zonia ho detto bene Easy E la V devo un attimo capire come funziona E niente noi spariamo Spariamo e basta E ratatatatata ratatatatata Vabbè tutto sulla torre è andato E poi qui ragazzi c'è la playstation Poi questo appena in tappo Immagino che fosse per noi quello Ecco qua la doppia Q Qualcuno è stato risuscitato Molto bene Questo sarebbe buono da fare che ne pensate Andiamo andiamo Questa modalità è la one for all Esiste da un sacco di tempo E' una modalità dove C'è un team composto da un solo champion Un altro team composto da un solo champion Noi siamo 5 akshan Contro 5 a mumo Infatti non c'è modo in cui possiamo praticamente vincere i fight Però queste mumo fanno veramente schifo ragazze Queste mumo fanno veramente schifo Vabbè ci ho provato Io signor collezionista di scorrige Non starei lì fossi in te Ah si si ping Quante Q che sono partite Anzi 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 Ah oh yes Molto meglio questa Contro gli amumu No ma non dobbiamo fightare Questo è il problema Oddio se killa quel tizio lì Non dovrebbe resuscitare qualcuno C'era il simbolino quello no? Oh Non sa resuscitare Come funziona ragazzi sta cosa Deve resuscitare la gente Perché non la capisco? Vabbè Boh Non capisco Non ho idea In questa unità è buggato Ah interessante Niente dobbiamo per forza fightare 5 contro 5 ragazzi Non so come faremo a vincere però vabbè Ok Ok Perché non lo sta facendo? Ditti che No ma prima funziona Prima qualcuno Un action era stato resuscitato ragazzi Ho visto il simbolo Rattatatatatatatatatata Mamma mia Che ridere sto cazzo di rampino qua Che cosa stupida Spara, spara Spara E via E si scappa col rampino Ciao Sbagliato Can we end or FF Per noi o per loro C'ha un sacco di vita Vabbè Lo killiamo easy comunque Lo killiamo comunque Il drago fa schifo in sta modalità Non lo vuole nessuno What? Io non capisco come funziona ancora sto coso Oddio Ok Let's go Che ignoranza sto campione Non serve saperlo giocare a quanto pare Right click e via Proprio niente penta perché l'altro è già morto però Va bene lo stesso Se clicco due velocemente mi fa lo scatto indietro Ok Ehm Questo Perchè come l'impressione che la tattica Sembra di tutti i mid Da right clickare Ad osso i nemici Il fight ragazzi Sono partiti Uno e due morti Adesso Saucioraka Perchè non eri con noi a morire Anche i miei alleati fanno abbastanza schifo Vabbè Pure con la QSS ragazzi Non ha fatto tante differenze Però c'è un altro Che sta per pegare il Varon Ok vabbè No non ce la farà A questo punto Prova a prendere l'inibitore Se tanto di morire No Non ce l'ha fatta Tutti convintissimi Con sto champion Poi basta Poi fanno schifo e sorrendono Io non capisco Grazie Torri di Torre Non ti ho visto E jammy Grazie di sub Ragazzi Grazie mille Grazie mille Speriamo che era anche il settimo Up Oddio Oddio ragazzi La left steel Quanto sta spingendo Sta spingendo E ogni 12 Bisognerebbe proprio fare Akshan Urf Non ce la si può mica fare Ma non han capito Che noi non possiamo Effettivamente Vincere un fight Contro questi Tocca andare back Perché sono tutti qua L'hanno già finito Oh dove stanno andando Ok Ok Stanno arrivando tutti Noi andiamo back Ok Via Bo ragazzi E' facile Vincere sto game Però Sono un po' tutti Incapaci E sono l'unico al 18 Questo racconta Tante cose E penso di essere Quello che conosce Meno il champion Visto che l'han preso Tutti e quattro Quindi ne erano Abbastanza convinti Con KD è positivo Vero Vabbè c'è uno 12 8 Vado a prendere gli inibitor Comunque anche gli Amumu Fanno schifo Hanno fatto che Amumu Cioè Come fai a sopravvivere A tutti quei CC Detto onestamente Oh no Me sta portando qua Buonasera E cazzo fanno questi Ma prendetelo Questo qua Dato Afk Vai 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 l'incoraggio Ragazzi Andate Nice Ma io vorrei che Pia una cosa Quando è che qualcuno Di noi verrà Ressuscitato Dalla passiva Va Vabbè Molto utile sto baron Beh sarebbe non darlo a loro Altrimenti l'avrebbero fatto Tranquillamente Il secondo herald Chi ce l'aveva C'era un secondo herald A parte Era poco utile Oddio Oddio No ma per Guarda che danni Mi faccio Quanto tanka Sto tizio Ma che è Però tankosissimo Io penso abbiamo vinto Vabbè ti rende dritto Bene Quanti personaggi sono su LOL Un po' più di 150 Easy Easy Super easy Molto bene Ecco a voi ragazzi Questo bellissimo game One for all Va bene Anne esporta Lo chiameremo La mia prima Tra parentesi E unica One for all Mi piace Mi ha idea Joe grazie 18 mesi Caro Bentornato Bentornato Che onoro Ma che cazzo Mi frega Fart collector Solo per il nome Vediamo un po' 5 contro 1 Failed Ok Va bene Comunque Secondi in danni Dai Non so poco Anche cosa Fai il suo champion Pensavo Primo e ultimo game Con Akshan Va bene Giochiamo qualcosa